Ciao, sono Elisabetta, io sono Rosa e questo è il nostro documentario Passeggiando fra le pietre. Enjoy! Dovunque ti volti, c'è qualcosa che ti racconta una storia di bellezza. Nessun luogo è un semplice punto su una carta. Dimora dell'essenza dell'umano è piuttosto un'entità legata ad un agire nel mondo. Agire che spesso dimentica la cura verso ciò che era già lì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alterato dall'ossessiva ricerca di collocarsi in uno spazio, mutato dal conformismo, si finisce così nel distacco da ciò che c'è nel necessario. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questi non luoghi non sono il contrario dei luoghi, semplicemente ne segnalano l'assenza e l'isolamento da quella che è la vera bellezza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La bellezza dell'osservare e dell'ascoltare. Ritrovare in un particolare la bellezza, il gioco dell'immaginazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La bellezza della semplicità Grazie a tutti.